Allora, per cortesia, il dibattito è concluso, si va, si vede, consigliere, per cortesia, allora, si va a votazione, allora, cominciamo a votare la numero 14, quella presentata dai consiglieri Claudio Boglio e Fabrizio Bardella, in merito alla riscossione Passi Carrai. Allora, se per cortesia i consiglieri entrino in aula... La votazione è aperta. Tre, quattro, cinque, sei, siamo venticinque. Allora, sono venticinque, sono tredici no, dieci sì, due astensioni. La mozione è respinta. Adesso passiamo alla mozione 15, quella presentata dal consigliere comunale Giovanni Lava, sempre in merito a abolizione Passi Carrai per il 2013. Si vota. Manca un voto per cortesia. Allora, per cortesia controllate se avete votato. Allora, sono tredici no, due astenuti e nove sì. La mozione è respinta. Adesso passiamo alla mozione numero 16 e numero 17, che hanno lo stesso tema. Grazie. Grazie.